In qualche modo tu fai una fotografia a quello che è il nostro tessuto sociale, poi la traduci in musica e combi di qualche modo un'analisi quasi spietata di questi contenuti, ma questa è una tua caratteristica già da sempre effettivamente. Diciamo che si sposa con questo tema, effettivamente tutto quello che è successo a Sanremo, neanche a farla apposta, quest'anno la scena romana ha dilagato, al contrario di 2004 in cui, come ho detto prima, appunto eri l'unico rappresentante. Sì, ma secondo me guarda che Roma ha un po' l'andamento ciclico, per cui siamo rinnovati in una fase di crescita con dei nomi che c'erano da sempre, che si riaffacciano prepotentemente sulla scena musicale, sì saranno un esempio con Cristicchi, ma anche Moro che hanno vinto, Pier Cortese, poi ancora che al momento non ricordo, ma un po' in tutti i campi, in tutti i destili. Quello che soffriamo noi a Roma, pur essendo la metropoli più grande d'Italia, è che tutte le etichette ormai ci hanno abbandonato e stanno su a Milano, come anche i network radiofonici e tanta promozione, per cui siamo un po' pendolari. Mi scoccia il fatto che pur vivendo in questa grande metropoli non riusciamo a compattarci gli uni con gli altri a fare un po' lungo forza tra di noi, insomma, quindi siamo sempre costretti, sembra quasi che veniamo da un paesino sperduto quando si tratta di promuovere poi la musica. Però questo vedo che non succede comunque con te, che tra l'altro hai girato tantissimo appunto in questi tre anni. Gli artisti a Roma sono tanti, veramente ce ne sono alcuni molto molto bravi, ah c'era anche Silvestri a Sparremo, per esempio il pezzo di Cristicchi mi è piaciuto molto e giustamente raccoglie magari anche quello che, come sta succedendo a me, di lavoro seminato negli anni, insomma. Sì, diciamo questo qui è stato tra l'altro uscito anche già il libro appunto di Cristicchi che in qualche modo tra l'altro si vende insieme l'album, però torniamo a parlare ancora del tuo album appunto Multiculti, questo è un album, però ti lascio un secondo, dalla regia mi dicono che incombe la pubblicità, ti lascio per un secondo e ritorniamo immediatamente in diretta. Va bene. Stati ascoltando Radio Roma. E appunto stavamo ascoltando appunto Ehi, ma poi la facciamo riascoltare comunque. Siamo riusciti a ripristinare il collegamento, mi dicono la regia, bene ancora Piotta al telefono, ciao, eccoci nuovamente, è caduta la linea. Sì, purtroppo questi sono i mezzi, oggi purtroppo siamo un po' in, come dire, in una situazione d'emergenza. Però vabbè, l'importante è che la facciamo, che... Sì, riusciamo sicuramente. Anche se ho questo fastidiosissimo delay per cui parlarlo e poi risento la voce mia dopo tipo mezz'ora, però... Perfetto, ci parliamo lo stesso, insomma, ecco. Diciamo che abbiamo ascoltato come prima canzone, prima, appunto, Troppo Avanti, voglio parlare un attimo di questa canzone, che tra l'altro c'è, questa è una canzone... Sì, no, dicevo, praticamente, dato che questo disco è il frutto di tantissimi viaggi, ma di un mix, appunto, anche di ospiti, contenuti, linguaggi, stili, religioni, culture, un po', ti ripeto, come ha detto Pocanzi, appunto, è il frutto di una grossa maturazione professionale artistica. E in questo, tra l'altro, il... Tu ti sei avvalso della collaborazione, appunto, per quanto hai realizzato tutto l'album, di grossi personaggi artisti, appunto, tedeschi, francesi, senegalesi, americani. E tra i tanti, invece, c'è stato anche un rapper, appunto, un rapper nostrano, appunto, italiano, che è Caparezza, e infatti con lui hai realizzato questa canzone, appunto, questo brano che abbiamo appena ascoltato troppo avanti. Ne vogliamo parlare, Tommaso? Assolutamente sì, e per gli otto italiani, tra cui, appunto, Bassi, Turi e Mariangela, che ha recentemente fatto anche Sanremo, c'è Michele Caparezza, e sono contento di aver collaborato con lui, ci eravamo conosciuti in occasione del concerto del primo maggio a San Giovanni, a Roma, e avevo tanto una stima artistica di lui e dal momento della conoscenza, anche umana, perché, insomma, è una grande persona con cui mi sono trovato subito in sintonia, e quando ho pensato agli ospiti di questo disco, tra quelli italiani, mi è subito venuto in mente, Michele, sono contento, insomma, che è stato, che ha accettato, insomma, ben volentieri, e per cui è nato questo Troppo Avanti, che Tommaso è un brano, come anche si capisce dal video, molto autoironico, perché il video, per tutti quelli che l'hanno visto, ci sia un provetto ballerino con passi di breakdance che strembro io, poi in realtà, c'è un piccolo trucco, quindi è un po' un essere troppo avanti in questa specie di gioco che è la vita, che fa un messaggio a non prendersi troppo sul serio, però criticando anche tra le righe, sempre come nel mio stile, quindi un po' a doppia lettura, molte cose che poi della società non mi piacciono, per cui dico che appunto me la vivo in pace, un po' come c'è Mahatma Gandhi, però non mi piace la gente che tace, insomma, perché a volte questo mondo è un po' come la paglia, per cui può prendere facilmente fuoco la protesta, molte cose come in questo momento, insomma, non giro come credo sia giusto per tante persone. Quanto può aiutare la musica, il fatto, diciamo, in questo mondo che in questo momento è come la paglia, appunto dicevi che prende facilmente fuoco, vediamo dilagano guerre da tutte le parti, tra l'altro guerre in tanti casi completamente ingiustificate e poi i risultati non hanno dato la prova. Certo, sì, sì, poi, insomma, per interessi veramente commerciali, a discapito della qualità della vita di tante persone e della giustizia, insomma, presa con la G maiuscola. No, lo so, una canzone sicuramente potrà fare ben poco, però, insomma, nel dubbio sicuramente qualcuno pure, no, perché Serremo ha criticato Moro perché dice, sa, la canzone è una mafia, ma tanto la musica che può fare, ma secondo me qualcosina può farla e comunque nel dubbio è sempre meglio far vedere che almeno il singolo individuo ha preso coscienza, se poi il singolo individuo, nel caso specifico, fa il cantante e magari la sua presa di coscienza può andare a colpire altre anime, ben venga, anche se fosse un'anima sola. Ma sai che c'è, io ho preso, adesso tu hai preso appunto appunto la canzone di Moro, di Fabrizio Moro, che ha vinto appunto, ricordiamo, la sezione giovani del festival. Diciamo una canzone del genere, ascoltarla ti fa in qualche modo riprendere fiducia appunto in quello che, quando la fiducia ormai uno sembra averla persa. Però in questo lavoro io mi sono spesso confrontato con realtà molto particolari in cui gente cerca giustizia, ma dopo tanti anni non riesce a trovarla. Sembra che questo sia il mondo fatto più che per chi delinque, che per le persone oneste. Pensiamo, un esempio per tutti, pensiamo alla strage di Piazza Fontana che dopo tanti anni ha visto addirittura i familiari delle vittime doversi pagare le spese legali. No, no, ma a volte le situazioni sono vergognose. Devo dire che uno purtroppo, cioè, vieni quasi invogliato, se non sei forte, a compiere anche te degli atti, vabbè, non parlo di atti criminali come questo, ma anche cose più banali tipo l'evasione delle tasse. Perché tanto alla fine chi se ne frega, perché il condono prima o poi lo faranno. Quindi è doppiamente dura da sopportare, però confido sempre nel senso di responsabilità delle persone, perché poi il microcosmo di responsabilità che è la famiglia si moltiplica fino ad arrivare a una nazione e poi al mondo intero. Quindi se ognuno in ogni grado di apparizione, quella di padre fino a quella di governatore di un paese si impegnasse con senso di responsabilità, credo che forse qualcosa di meglio si riuscirebbe avere. Tu hai parlato appunto dell'evasione delle tasse. Questo mi fa pensare a quello che ultimamente è stato un provvedimento di questo proprio governo di centrosinistra che in qualche modo ha stipulato in qualche modo un accordo con l'opposizione di centrodestra e poi passo parlando appunto dell'indulto, dove in qualche modo sono stati abbonati, tra virgolette appunto creati finanziari, corruzione e concussione. Dato che mi approfitto da tua presenza, perché oltre ad essere un bravissimo musicista, rapper, sei soprattutto anche un grande osservatore appunto del tessuto sociale. che messaggio sei pronto? Mi senti? Pronto mi senti? Tommaso mi senti? Tommaso? Sembra che sia nuovamente venuto meno il collegamento. Ci sei? Mi senti? Pronto? Forse... non so se ci siamo... proviamo nuovamente a ripristinare il collegamento appunto con Piotta, perché tra l'altro avevo fatto una domanda molto particolare, forse non doveva rispondere a questa domanda, ricordiamo appunto che abbiamo parlato appunto di quello che è il messaggio appunto che viene dato ai giovani, appunto gente spesso sente quasi il bisogno di compiere degli atti, tipo come elevazione delle tasse e roba del genere. però poi naturalmente... ecco, nuovamente siamo in linea, nuovamente... ecco ci siamo, ecco... avevo preso...